Ma è stata una bella giornata per tutti e due motivi che hai detto, perché tornare qua è sempre un piacere, ho lasciato degli amici, dei veri amici anche perché abbiamo legato un legame importante dopo la finale dell'anno scorso e poi segnare in questo campo mi ha sempre portato bene, anche oggi è andata bene, ma sono super contento per i tre punti. Ho fatto questa scelta proprio per questo motivo qua, perché penso che sia il posto giusto per far sì che il mio livello calcistico arrivi al massimo, quindi non sarei andato in nessun'altra società per altri motivi, io cerco sempre di guardare alla prospettiva del mio futuro. Ma sì, è vero, ho sempre detto due e trese che sono cresciuto con i loro video, ma non ho ancora realizzato, ho già detto in un'altra intervista perché non mi sono ancora reso conto che è il mio mister, perché lo vedevo veramente nei video su YouTube, continuo tutt'oggi a vederlo, però cercherò, come ho già detto, di prendere tutti gli spunti che mi possono aiutare.